Allora ragazzi, mangiata pazzesca Longhorn Stickhouse, se capitate da queste parti, tanti dietro l'angolo, vicino Lancaster, e niente, statale 30, stradona lunga lunga lunga, io ci sono arrivato per via tramite stradine di campagna, Belline da Morì, Belline Bau, e ora sono in questo motel pazzesco, con una televisione gigante, che ci ho attaccato il Fire Stick, quindi mi guardo la televisione italiana, giusto per essere sicuro di imparare appunto l'inglese, smetti che Dio ne guardi, torno dal viaggio, comparo qualcosa, si può mai sapere, e niente, e ora sto andando a piedi nel motel, nel motellino, pazzesco perché sembra veramente quei film dove c'è quel motel lungo la strada, che mangi la ciccia, e effettivamente è così, ho speso una scea, perché chiaramente avevo fame, quando uno consuma 4-4500 calorie al giorno, poi gli tocca spendere un monte a cena, il che va bene, perché comunque questa è benzina, c'è chi spende nel pieno di benzina, e io spendo nel pieno di ermibuzzo, e niente, classic in, 3 metri, 3 metri, dalla cicceria, stradona, devo stare attento a un bifarruta, e qui il motellino nostro, ora ho il dolcetto per fare colazione domattina, e le chiavi in tasca, quindi ora, per entrare in camera, devo staccare la linea, comunque, segnatevi questa osa, io penso di essere l'unico, che se Dio ne guardi, gli Stati Uniti sono tutti in motel, con ristorante accanto, buono come stasera, io sono l'unico che fa viaggi di 10.000 km in bici, e torna che pesa 10 kg in più, e questo è quanto, ora c'ho anche da Stati Uniti, sicché buona serata, qui sulle 9 di sera, e niente, e...